... Sui prati di Villa Borghese, i rivali in erba di Viloresi, Ascari e Farina danno il brivido dello spettatore agli omonimi campioni reduci dall'Argentina. Distribuiscono ai piccini un po' delle congratulazioni ricevute. Che ci racconta, Ascari? Cosa volete che vi dica? Siamo contenti di essere arrivati in Italia. E ora che farete? Dica, Viloresi. Riposiamo, piano piano. Farina, è vero? A proposito di piano, è con mezzo sicuro. Serafini? Con mezzo sicuro sì, ma io preferisco sempre la motocicletta. Si fa un giro? Anche la dirigenza vorrebbe fare un giro, se non ci fosse Viloresi, pulmineo nel salvataggio. Serafini preme l'acceleratore, ma gli asinelli hanno poca ripresa. Ne hanno invece questi piccoli fanatici del sistema a trazione posteriore.